Il Stato mette a disposizione dei fondi per sostenere l'attività dei giorni. E l'attività di calcio, oltre all'aspetto arbitrale, oltre all'aspetto delle partite, oltre all'aspetto di fare tutto quello che avevo fatto legato al mondo del pallone, ha anche un aspetto che è secondo me decisivo e fondamentale. Noi non creiamo calciatori, ma creiamo comunque membri di questa società. Per me è importante creare basi solide dove il rispetto, dove l'educazione, dove i valori importanti vengono veramente messi al centro. E quindi nella formazione dei ragazzi dai 5 ai 12 anni, per me sarà fondamentale che in Ticino ci si basi su questo. E dai 12 anni in poi vi sono altre responsabilità che in periodo di conto, ma la Federazione di Cinesi di Calcio, soprattutto per i più bravi, non ha più molto da dire, perché il Ticino ha tutti gli effetti partendo dalla U14, è responsabile della formazione di questi giorni. Ed è anche per questo che Banca Stato è anche sponsor di Ticino. Mi sembra un colnubio molto normale, molto giusto e molto naturale. Quindi, io sono onorato, orgoglioso, ringrazio la Federazione di Cinesi di Calcio per aver ringraziato a questa comunità, so che ci sono state molte discussioni relativi a questa scelta, se sono stato scelto è perché sono convinto che una Federazione sia convinta delle mie qualità. Io farvi tutto per onorare questo. Un fattore importante, perché comunque questa è una cosa che devo dire io, per esempio, quello che dicono gli altri, se ho scelto di fare il Ticino regionale è perché ho deciso non più allenarmi. Quindi, togliamoci immediatamente qualsiasi puntio, anche se mi dovesse arrivare alla proposta del Real Madrid in questo momento, io ho un solo pensiero, che è quello di allenare i ragazzini, aiutare gli allenatori e formare i temi. Non ho altro di dire, grazie. Ecco, siamo arrivati quindi, per farlo dalla parte tecnica, alle domande. Avete, siete qui? Ponete le domande che pensate di un po'. Scusa, si può sapere la domanda di questo contratto parziale? Cinque anni, cinque anni. Cioè, per io rispondo... Farò un riscaldamento, che c'è. Come volevo chiedermi a Anni, appunto, ha detto che ha servito più allenare, non credete che ne mancherà comunque una certa adrenalina che provava prima? Allora, nella vita bisogna sapere compensare quella che è l'adrenalina, quella che è comunque la capacità di tendersi conto di sono delle cose che non sempre fanno soltanto del bene, ma che sono fatte anche del male. Io, nelle esperienze calcistiche d'allenatore delle prime squadre, ho vissuto molta adrenalina. Però bisogna anche guardarsi attorno, girarsi dietro e versi conto quanti comunque momenti difficili sono di su. Io sono convinto che questa adrenalina mi mancherà, ma sono anche convinto, dal lato comunque di una certa maturità, che l'adrenalina si può cercare anche altrove. E la capacità è quella di guardare magari il sorriso di un bambino, di sette anni, che è capace di darti, molto sincero e onesto, la propria adrenalina. Perché i fatti degli ultimi tempi comunque dimostrano che non è tutto così scordato allenare in challenge di questo per me. Quindi, io ho vissuto momenti difficili in questi mesi, non lo scondo, ma fa parte della vita di un allenatore. E poi, io comunque fino al 3 terri giugno, e questo la federazione di calcio lo sa, se Lugano improvvisamente dicesse che Dario Morandi deve allenare la prima squadra, perché nel compito è esclusivamente allenare la prima squadra, io sono tenuto a prendere le mie cose e andare in un'altra. Sì, Premo Morandi, vorrei chiederti, se sei in fondo accettando questo impegno con la federazione, si può dire o può dirmi se hai realizzato un po' il tuo sogno, visto che avrebbe fermato qualche giorno, di Ciaro Casno, che non avrebbe più fatto l'allenatore, ma l'avete già fatto capire così. Quindi è un tuo sogno o una tua idea che comunque ti malenavi? Guarda, io sono uno che sembra che non ragioni con la testa, ma sono estremamente ragionatore. E una sera scendendo dal Ceneri con Arturo Carriola, sto parlando di quattro anni fa, questa discussione era già nata, ma non per sostituire uno guardi, ma pensando al futuro, perché comunque stavo ultimando i miei corsi di formatore e di allenatore. Io, quando ho iniziato, ho cercato di capire al massimo quello che Bruno era in grado di darmi, anche perché comunque è stata la mia ambizione quella di diventare un po' legionale. Adesso abbiamo una nuova, che è quella di fare il mio compito, venga apprezzato da tutti, e il mio sogno futuro è quel giorno, compatibilmente con quello che saranno le responsabilità, perché non si è legato al proprio posto di lavoro per il salario, si è legato al proprio posto di lavoro per il lavoro, che si è legato nel lavoro così. Quindi, io ho un contratto di cinque anni che comunque la federazione, se io non lavorerò bene, come tranquillamente mi viene di dire, Davide prende le tue cose e va bene, giustamente. E la stessa cosa è che io spero, in questi cinque anni, magari ce ne saranno anche altri, di imparare al massimo, con il sogno un giorno, magari di poter allenare le nazionali pizza. giovanili, questa è la verità, perché non c'è nessun problema. Ma non è oggi, non è domani, è molto dopo domani. Altre domande? Pensi magari di realizzarti al 100%? Ma questo... No, 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 ma adesso... Adesso la federazione ha veramente avuto grandissimo rispetto nei confronti di Bruno, nei confronti di chi opera nella sezione tecnica, e soprattutto nei miei confronti. Non si sono fatti i voli pindarici, non si sono fatte promesse che non possono essere mantenute. La federazione di calcio rappresenta tutti i club del Campionicino, e quindi deve rispettare che in questo momento non ci sono i presupposti per avere un impiego al 100%, non ci sono nemmeno i presupposti per quantificare l'impegno di un tecnico regionale, ed è per questo che ci siamo detti, ok, iniziamo, ma monitoriamo. E il futuro ci dirà cosa sarebbe in grado di fare. Per il momento io non potrei, in modo molto sincero, vivere esclusivamente di quello che la federazione di cittadini di calcio mi ha dato a disposizione. Ma non è un problema niente, quindi è molto onesto quello che sto dicendo. E quindi vedremo quello che il futuro ci dirà. Ma per il momento, anche se sono impiegato al 21%, al 13%, al 100%, credetemi, la mia mente è al 100% in quella che è la formazione per la federazione di cittadini di calcio. non mi interessa la percentuale lavorativa, mi interessa la passione che è lenta. Spero che il messaggio sia stato chiaro, perché non è soltanto per voi il messaggio, ma anche per chi all'esterno lo giudica. E carico non solo, sì, dice io, questo è chiaro. Per me avete capito i due caratteri, eh? Grazie. Ma io vorrei essere un po' più come noi. No, 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 no. Comunque noi contiamo molto su questo entusiasmo da parte di vita e di vita. Noi ci fondiamo su questa capacità di trascinare, di anche provocare. È necessario. Voi sapete benissimo come il calcio cambia in fretta, le cose cambiano in fretta. E quindi occorre un mio amico da poco e giustamente Davide si pone la domanda riuscirò a fare tutto bene come un gesto e sarà un bel colavo una bella venti.